Ciao wannabe programmer, eccoci alla quinta puntata del podcast e oggi parleremo di open source e vedremo un po' cos'è l'open source prima cosa, poi vedremo perché è utile contribuire a un progetto di open source, quale può essere il nostro vantaggio come programmatori a contribuire a un progetto di questo genere e poi perché può essere interessante creare un nostro progetto open source. Voglio ringraziarti per il supporto che mi stai mostrando in questo podcast, se hai delle idee per ulteriori e futuri episodi non esitare a commentare qua sotto. Allora, che cos'è l'open source prima di tutto? Iniziamo così, subito. L'open source è un modello di sviluppo software dove il codice sorgente del programma viene reso disponibile al pubblico, quindi vuol dire che tutti possono studiare, modificare e utilizzare il nostro software. Il termine open source è abbastanza datato, è la definizione del 1998 e tra gli altri hanno partecipato anche Eric Raymond, famoso pioniere di questo tipo di comunità. In sostanza, cosa fa l'open source? L'open source sostanzialmente rappresenta un modo di creare un software dove la conoscenza viene condivisa in modo tale che chiunque possa contribuire al software e contribuire a migliorarlo secondo le proprie competenze, quindi se sono un programmatore andrò a magari aggiungere funzionalità, se sono un utilizzatore andrò a segnalare di bug ai programmatori esperti che si preoccuperanno di sistemare queste problematiche o anche aggiungere nuove funzionalità nel caso venissero richieste. Allora, l'idea della collaborazione è quella di lavorare insieme per creare un software sempre migliore, sempre più soddisfacente le necessità degli utenti. Quali sono i principi fondamentali dell'open source? Allora, l'open source si basa su quattro principi fondamentali. Il primo principio è la libertà di utilizzo del software, cioè l'idea è che gli utenti hanno il diritto di poter utilizzare il software in qualsiasi modo, senza particolari limitazioni. La libertà anche di studiare il software. Il fatto di avere a disposizione il codice sorgente consente di capire che cosa sta succedendo quando si attiva una certa funzionalità ed eventualmente, se uno non dovesse avere le competenze, di andare a migliorare il software stesso. La libertà di modificare il software. Gli utenti hanno il diritto di modificare il codice sorgente, in modo tale da poterlo adattare alle proprie esigenze particolari. Siamo abbastanza abituati nei programmatori a fare questo e sempre tutti i progetti di tab possiamo utilizzarli, prendere delle parti, utilizzare i nostri progetti, ovviamente migliorare i progetti esistenti. Quindi questa idea di fare un mashup di conoscenze, di condividere la conoscenza, è veramente fondamentale. Assolutamente uno dei vantaggi dell'open source è stato quello di rendere possibile a chi va a studiare informatica oggi una quantità sterminata di codici di ottima qualità scritto in qualsiasi linguaggio che non voglia studiare. Questo ci aiuta, ci aiuta a capire come si risolvono problemi anche dal punto di vista architetturale che è una delle cose poi più complicate. Dicevamo che il linguaggio in fondo si può imparare, imparare a scrivere l'architettura di un software è una cosa ben più complessa. Quello che a noi interessa è perché, qual è stata l'importanza del software open source prima di tutto, prima di adentrarci nel perché ci può interessare utilizzare e sviluppare nella comunità open source. Allora, l'open source ha avuto un impatto enorme sul mondo del software, infatti se in passato avevamo software house molto grandi che creavano software proprietario, che non poteva essere, diciamo, manipolato da terzi, non può essere nemmeno studiato da terzi, l'idea era che questi software tenuti sostanzialmente nascosti nel loro funzionamento a volte celavano dei bug enormi che venivano semplicemente ignorati e creavano dei problemi agli utenti. L'open source ha superato questo perché creare veramente un software aperto, un software sviluppato in modo collaborativo consente a più utenti esperti di visionare il codice sorgente e di individuare eventuali problematiche. Inoltre ci sono e sono state create un sacco di applicazioni, librerie innovative utilizzando il modello open source. Perché? Perché in questo modo è stato possibile far collaborare numerosi esperti per creare un software migliore. perché le ore uomo del software open source sono assolutamente enormi rispetto a quelle magari di software che sviluppate in un'azienda. Pensiamo ad esempio al kernel di Linux, un classico esempio. Immaginiamoci il web senza Apache, immaginiamoci i database senza MySQL, oppure, non so, framework web senza Django, senza Node, senza Python. Beh, insomma, sarebbe molto diverso. L'open source è diventato uno strumento importante per promuovere l'alfabetizzazione digitale inoltre. Cioè l'idea è che grazie al fatto di avere a disposizione il codice sorgente, tanti studiosi di informatica hanno potuto visualizzare come gli esperti vanno a risolvere i problemi e quindi hanno potuto capire come si possono andare a risolvere i propri poi problemi. L'idea è che questo percorso di condivisione abbia reso poi più accessibile l'apprendere quello che serve per inserirsi nel mondo dell'information technology, quindi nell'informatica, e per avviare una carriera di successo, è chiaro che ha reso l'informatica veramente più accessibile a tutti. E' per questo che una delle cose interessanti da fare è di prendere un progetto che piace e andare a leggere il codice, cercare di capire come si può andare magari a migliorare questo software, a correggere un bug, sono ottimi i modi per studiare, ottimi i modi per avere sempre quell'ispirazione che a volte manca, che a volte manca quando noi andiamo a studiare, quando andiamo a imparare cose nuove nell'ambito dell'informatica e sicuramente grazie al contribuire ai progetti open source questo può essere superato. Se pensiamo ai vantaggi, sicuramente l'accessibilità al codice è uno dei vantaggi più grandi. Inoltre anche la personalizzazione, il fatto di poter andare a prendere un software esistente, aggiungere un componente che rispecchia le mie esigenze è uno degli aspetti estremamente positivi di questo tipo di software. Inoltre le comunità dei vari progetti hanno dei grossi sistemi di supporto, parti da Discord, progetti GitHub con la gestione dei bug e quant'altro, che ci consentono a noi utenti di avere il software di qualità più alta e gli sviluppatori di potersi coordinare anche se a distanza. La qualità inoltre del software che viene realizzato consente che il fatto di avere più sviluppatori che possono vedere il codice sorgente mediamente porta ad avere un numero di bug minore rispetto ai software chiusi. Inoltre i costi, sappiamo che la maggior parte del software open source è gratuito, esiste anche software a pagamento open source, infatti una delle cose fondamentali è ricordarsi che l'open source è gratuito, il problema è il termine free, free noi lo traduciamo come gratis, in realtà in questo caso è libero, ok, ovviamente, e questo vuol dire che in realtà gratuito non è libero, o meglio, gratuito non è libero e libero non è gratuito per forza, non c'è un se solo se, anzi, posso avere software gratuiti ma non liberi, ad esempio i demoware o altre software che non hanno il codice sorgente, questo non li rende liberi. Allo stesso modo, ovviamente, possono esserci software liberi, quindi che vengono, dove, diciamo, viene consegnato anche il codice sorgente, viene reso disponibile anche il codice sorgente, che tuttavia risultano, risultano a pagamento. E cosa viene pagato il servizio? Chiaramente il servizio di costruzione e di programmazione è pagabile, se così viene deciso da chi ha creato il progetto, altrimenti no, non è, non ha nessun costo, diciamo, per l'utente finale, ma viene fatto per una serie di motivi che adesso andremo a vedere. Vari possono essere i motivi per cui noi andiamo a creare un nostro progetto open source, un progetto open source può essere creato sia per questioni di contributo alla comunità globale degli sviluppatori, ma anche di creare, quindi, qualcosa di utile per gli utenti finali o creare qualcosa che può darci un ritorno, sì, perché fare un progetto open source consente di avere dei ritorni secondari che diventano molto importanti, possono essere veramente molto importanti per uno sviluppatore. Vediamo un po' di capire adesso quali possono essere le varie motivazioni. Io posso di base dire, io creo un progetto e lo rendo disponibile alla comunità, perché la comunità ci piace, ci piace fare le cose assieme, ci piace condividere, ci piace consentire agli altri di decidere il nostro codice urgente, vedere come abbiamo affrontato le cose, entrare in confronto, poter migliorare noi stessi. questo è veramente importante, questo è uno degli aspetti fondamentali, cioè io contribuisco alla comunità con un progetto e ho un feedback di un numero molto grande di sviluppatori che possono consigliarmi sia su come strutturare le cose, sia su come migliorare le cose che sto andando a realizzare, questo è veramente da tenere presente, e da tenere presente perché può essere un aspetto importante per crescere ed evolvere, quindi per migliorare le proprie competenze come programmatore. Inoltre, se io faccio un lavoro e questo lavoro rischierebbe di restare nella mia bacheca dei progetti che ho realizzato e nessuno mai vedrà, allora in questo caso avere un progetto Pensoras consente ad altri di vedere il nostro lavoro e quindi ci consente di far rendere più visibile il nostro lavoro. Immaginiamo anche un'azienda che vuole fornire dei servizi su un proprio gestionale che sta sviluppando, allora potrebbe essere che l'azienda rilasci una parte, almeno una parte, del gestionale open source in modo tale che anche altri sviluppatori possono utilizzarla e sviluppare magari dei moduli aggiuntivi e l'azienda si tiene comunque la possibilità di fornire a lei in primis una consulenza ai clienti che utilizzano questo tipo di software. Questo è molto interessante in realtà, ci pensiamo un attimo, perché questi sviluppatori ci aiuteranno a capire meglio come evolvere il software, utilizzeranno intanto ovviamente il nostro software perché è lasciato con licenza open e ci, diciamo, faranno in modo tale che più persone conoscono il fatto che esiste la nostra azienda che fa quel tipo di servizi. Questo è sicuramente un aspetto molto importante, molto molto importante. altresì imparare a lavorare con sviluppatori da tutto il mondo ci consente di imparare a gestire un progetto, un progetto a volte anche complesso. Questo è molto importante e è molto importante perché questa è una delle competenze che poi vengono chieste nel mondo del lavoro e l'idea è che imparare anche ad utilizzare ad esempio Git e GitHub è fondamentale perché se impara ad utilizzare Git e GitHub cosa c'è di vantaggioso? Sto imparando ad utilizzare un sistema che è di fatto standard per la gestione del software condiviso e viene utilizzato anche in azienda dove vengono sviluppati i progetti che non sono open source ma utilizzano sempre questo tipo di strumenti. Quindi è molto interessante che io sia in grado di andare a utilizzarli al meglio quindi mi danno delle competenze spendibili nel mondo del lavoro. In generale poi mettere a confronto il software con altri sviluppatori ci consente di imparare a produrre software di qualità migliore sia nell'affrontare i problemi che poi nel fare refactor nel migliorare quello che abbiamo già realizzato in modo tale da rendere più adattabile le esigenze future e mantenibili e inoltre ci aiutano anche a coraggiare i bug perché magari un bug ci viene segnalato ci viene segnalato da soluzione da uno sviluppatore esterno e noi andiamo a integrare la sua modifica al nostro progetto principale e inoltre posso andare ad apprendere maggiormente un certo un certo settore specifico a lavorare con tecnologie molto all'avanguardia e lavorare su un progetto open source consente di elaborare e ammontare la propria conoscenza e quindi questo è un altro aspetto molto interessante se pensiamo poi a un prodotto che andiamo a sviluppare con un progetto open source chiaramente ho più utenti ho più sviluppatori che contribuiscono devo imparare a gestire gli sviluppatori e gestire gli utenti ovviamente questo mi consente tuttavia alla fine di avere un prodotto migliore qualitativamente inoltre posso accedere a forum di discussione strumenti di dialogo di condivisione molto interessanti che mi aiutano a crescere come informatico sia nel progetto specifico che in generale nella mia carriera altro aspetto interessante è quello per cui io posso andare a dire ok voglio aumentare la mia reputazione in quell'ambito informatico particolare magari una nicchia molto specifica però posso creando buoni progetti open source andare a ritagliarmi una diciamo reputazione elevata in quell'ambito particolare questo è molto importante per il proprio lo sviluppo della propria carriera lavorativa inoltre la comunità open source è una comunità molto grande molto articolata molto accogliente e farne parte è una buona cosa è una buona cosa perché consente di creare connessioni di creare amicizie conoscere altri sviluppatori ma è tutto un grosso insieme di persone che hanno una passione in comune che è quella di realizzare software di qualità che risolva problemi e collaborandosi cresce tutti assieme questo è sicuramente un aspetto molto molto interessante adesso andiamo a vedere perché è interessante per un sviluppatore contribuire a un progetto open source fatto da altri e poi tireremo le conclusioni per un singolo sviluppatore andare a collaborare a un progetto open source può essere veramente molto importante teniamo presente che contribuire a un prodotto open source può voler dire essere notati da aziende così come crearlo chiaramente prima l'abbiamo detto ma chiaramente crearlo è un fattore di visibilità dicevamo di reputazione che può portare poi ad offerta di lavoro anche banalmente offerta di lavoro per dire ok stiamo utilizzando il tuo software open source ti paghiamo ti assumiamo per farti lavorare ancora il tuo progetto open source senza preoccuparti di dover fare magari anche un altro lavoro sicuramente per uno sviluppatore contribuire a un progetto open source già avviato può essere interessante per questioni di esperienza personale quindi aumentare la propria le proprie competenze in ambito tecnico quindi sviluppo del software architettura del software collaborazione quindi comunicazione tra team del progetto che è molto interessante molto articolata a volte come aspetto è un aspetto molto importante in realtà nei team di sviluppo e inoltre la visibilità nel senso che se sono un contributor diciamo sostanziale a un progetto importante beh anch'io godrò della visibilità di cui gode il progetto incidentalmente anche perché magari non sono io l'ideatore però magari ne ho sviluppata una parte importante quella parte potrebbe interessare altre aziende per eventuali collaborazioni quindi è un modo per diciamo farsi strada nel sottobosco nel rumore di fondo del mondo informatico e cercare di darsi una propria collocazione inoltre sicuramente contribuire a un progetto open source consente di conoscere gli altri sviluppatori del team e creare una rete di network un network di conoscenze quindi fare networking consentendoci poi di conoscere persone che possono essere amici ma anche persone che ovviamente lavorativamente parlando possono darci accesso a nuove opportunità e noi stessi possiamo aiutare loro quindi è uno scambio reciproco molto interessante c'è sicuramente il fatto che certe community sono molto interessanti e portano a far diventare un piacere condividere il proprio lavoro e il proprio know-how con gli altri è un po' quello che sto facendo qua con il canale youtube l'idea è che l'idea di creare delle community è un aspetto molto bello devo dire che è un aspetto che a me piace molto è l'idea che tutti siamo accomunati dal fatto che lavoriamo su un progetto che utilizziamo quel progetto che siamo interessati al fatto che il progetto continui a essere voluto nel migliore dei modi sono tutti aspetti molto interessanti molto molto interessanti inoltre poi voglio contribuire per imparare molto semplicemente per imparare se voglio imparare una cosa nuova può essere una cosa interessante provare a contribuire a progetti semplici chiaramente e poi soddisfazione personale o collaboro a un progetto open source la mia modifica viene accettata e alla fine beh io ne ho è piacevole il fatto che ci sia diciamo un riconoscimento in termini di è stata accettata la mia collaborazione la mia proposta di modifica ho ricevuto feedback positivi sulla mia proposta di soluzione mi fanno capire che in fondo sto andando nella direzione giusta chiaramente ultimo punto può essere quello molto interessante altrettanto di un sostanziale risparmio utilizzare il progetto open source consiste nella maggior parte dei casi in una spesa di zero dollari o euro o quello che è e questo perché è importante beh perché possiamo investire più denaro sulla nostra formazione e quindi accrescere le nostre competenze i software open source spesso sono di qualità molto elevate quindi questo ci consente di lavorare con software di qualità tanto alta che noi non saremo probabilmente stati in grado di realizzare dobbiamo sempre ovviamente rispettare tutte le licenze quando le utilizziamo licenze che sono di tipo diverso e che costringono tra virgolette obbligano a fare certe scelte un prodotto open source potrebbe non essere scelto perché la licenza open source che viene utilizzata nel prodotto non è compatibile con il tipo di progetto che si sta realizzando questo capita a volte è il motivo per cui sono così diffuse le licenze MIT BSD perché sono estremamente liberali da questo punto di vista mentre ad esempio lo GPL è più vincolante perché si dice se utilizzi una licenza GPL non è LGPL ma GPL basta all'interno di un progetto il tuo componente è GPL quindi tutto il software deve essere GPL questo non è detto ci sono altre licenze che consentono di incorporare codice open source all'interno di prodotti anche commerciali dipende molto dalla licenza e questo bisogna andare a leggere le licenze questo bisognerebbe farlo sempre per capire cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare con un certo codice ricordiamoci sempre che l'assenza di una licenza implica che non possiamo farci assolutamente nulla semplicemente va bene abbiamo visto un pochino gli aspetti teorici di questa di questa contribuire all'open source di cos'è l'open source del perché può essere interessante contribuire e creare un proprio un proprio progetto come scelgo il progetto per insursi di collaborare beh ci sono siti come app for grabs ad esempio ma ce ne sono tanti altri in realtà che danno il per ogni repository ce ne sono un po' di repository gli issue che sono considerati buoni quindi delle buone modifiche che possiamo andare a fare come come utenti in particolare vengono presi gli issue che sono cosa che era ready for first time contrib insomma sono delle marcati in modo tale da essere adatti a chi deve iniziare una collaborazione quindi può essere interessante iniziare con questi piccoli piccoli task perché ci consentono di riuscire ad operare al meglio con un progetto vero senza bisogno di o crearcelo da noi che all'inizio può essere una cosa troppo complessa oppure partecipare a un progetto che magari non ci interessa qua ad esempio diciamo magari io ho piacere ad utilizzare che ne so facex che è un repository di andiamo un po' è un repository di face recognition ok è una dimostrazione di referenti algoritmi face recognition qua ci sono tutta una serie di aspetti interessanti e noi qua abbiamo dove c'è good first issues no questo è l'altro scusatemi qua qua abbiamo già ci dà filtrati di issue che sono pensati come good first issue good for newcomers è scritto e allora cosa succede aggiungi alcuni filtri animazione e fare install chat usi open cv andiamo dentro a vedere tanto questo è già stato fatto poi c'è già una una pull request che voi non vedete per essere sotto alla camera qua c'è tutta la spiegazione la chiacchierata che sono fatti gli sviluppatori per decidere come strutturarlo uno può andare a vedere e dice beh vediamo un po' ci sono questi good first issue reporting debugging code così sono proprio explore first detection models potrebbe essere interessante però anche questi tutti stati hanno tutti una pull request li vedete qua sotto questo simbolo qua della pull request quindi c'è già stata proposta una soluzione uno potrebbe andare a vedere a simple shared budget manager web application con python flask anche qua scegliamo una tecnologia che già conosciamo magari all'inizio quindi uno dice beh andiamo a vedere i hate money andiamo a vedere questo ha tre first issue andiamo a vedere com'è fatto allora qui c'è tutta la versione può essere o stato può essere in cloud tutta una serie di cose quindi potrebbe essere interessante andare a vedere ad esempio a consentire la traduzione delle mail di invito questo potrebbe essere un buon un buon esempio questo è un good first issue ovviamente è un improvement e add not null to many fields vuol dire che devo aggiungere un not null ai campi delle tabelle e uno può mettersi lì e farlo e partecipare anche lui al progetto si può iniziare con cose veramente piccole non devi fare una grandissima evoluzione del software o quant'altro non ci interessa mostrare le statistiche come grafo questo è interessante c'è una bella discussione di 25 commenti discussione ancora vecchia di 16 che poi si è protratta in avanti non va avanti avanti 21 21 21 ok 22 però sono stati aggiunti in questo caso quindi fa riferimento a un altro elemento quindi diciamo che possiamo trovare con questi good first issue basta andare su github e cercare all'interno di tutto github good first issue e andare a cercare negli issue se c'è qualcosa di interessante questo secondo me è un buon aspetto una buona modalità per andare a cercare dei progetti che possono essere interessanti una cosa altrettanto interessante sarà armarsi di tanta pazienza ovviamente spesso chi gestisce un progetto lo fa nei dettagli di tempo e quindi magari noi facciamo le nostre modifiche facciamo una pull request e questo ci metterà tempo per essere accettata va benissimo non è un problema abbiamo l'accortezza di pensare di aver contezza del fatto che in realtà gli autori del progetto magari in quel momento non hanno fisicamente tempo per padare al progetto nel caso dovesse essere un progetto che per noi è molto interessante ma non lo è per chi l'ha creato magari può essere un'idea andare a cercare di capire se possiamo subentrare nella gestione del progetto ci sono poi tutta una serie di progetti su GitHub ad esempio che sono abbandonati sostanzialmente e che aspettano solo che qualcuno li porti avanti se è un progetto che utilizziamo un progetto che ci sta a cuore possiamo provare a proporci noi e sarà sicuramente un'ottima modalità di lavoro come funziona la creazione di queste pull request abbastanza basilare parto dal progetto faccio una fork del progetto faccio le mie modifiche la fork crea una copia del progetto nel mio repository però collegata a quella di partenza lo clono crea una nuova branch importante fatta questa branch faccio il check out della branch faccio le modifiche commit e pull request a questo punto il titolare del progetto l'owner del progetto potrà o chi delegato a farlo potrà decidere se accettare la nostra pull request o no se la pull request verrà accettata allora entrerà a far parte del progetto vero e proprio è bella questa cosa perché intanto che c'è questa fase la nostra pull request verrà revisionata in modo automatico ma anche eventualmente in modo manuale verranno proposti magari dei cambiamenti ci sarà un dialogo con lo sviluppatore del progetto con lo sviluppatore capo del progetto e quindi potremo andare a capire molte cose di come scrivere un software è un ottimo momento per imparare quindi ti consiglio sicuramente di cercare un progetto che ti piace trovare un issue aperto piccolo e provare a non vedi issue aperti ragionevolmente piccoli prova a chiedere agli autori spesso gli autori non si aspettano che qualcuno si proponga per collaborare ma sicuramente è una cosa interessante per entrambi e non si lasceranno scappare l'occasione di averti nel team che sta portando avanti il loro progetto e diciamo questa questione della pull request è molto interessante GitHub deve il suo successo a questo aspetto quindi questo è un po' un aspetto pratico cioè come vado a fare i contributi a se voglio in realtà poi creare il mio progetto chiaramente devo soltanto creare un progetto su GitHub e iniziare a scrivere buon codice come si fa a scrivere buon codice caro wannabe programmer seguiamo questo podcast vedremo man mano adesso ci focalizzeremo su piccoli progetti piccoli progetti che ci consentiranno di imparare delle cose di chiacchierare di discutere su queste cose che sono importanti per il programmatore però questa voleva essere un po' un lezione fondante per dire perché è bello l'open source perché è importante l'open source perché è utile che ogni programmatore abbia dei propri progetti open source e contribuisca a progetti open source di altri detto questo io ho terminato la mia chiacchierata spero di essere stato interessante spero che ti sia venuto qualche suggerimento da darmi scrivilo sotto nei commenti per il resto insomma se vuoi iscriviti al mio canale mi fai solo piacere e ci vediamo al prossimo video ciao